Amici sportivi del Mala, eccoci di fuori dalla fiera di Milano, è appena finita la terza giornata dei campeonati italiani di scherma e che dire, è stato veramente un bel pomeriggio di sport, incredibile, con colpi da sciabola incredibili da parte dei due contententi per la finale maschile e vediamo se vi riesco in qualche modo a inquadrare la scherma eccola qua, vedete, anche domani, ma mi sa che domani io non ci sono e cosa dirvi altro, ho fatto molti video per voi e domani ci vediamo un po' col tennis e con la Formula 1 Pronti, a voi, attacca, ripresa d'attacco, sposta, tocca, punto, guardia, pronti, a voi, ripresa d'attacco, tocca, punto, ripresa Pronti a voi, azione simultanea, in guarda, pronti a voi. Pronti a voi, azione simultanea, in guarda, pronti a voi. Pronti a voi. Pronti a voi, azione simultanea, in guarda, pronti a voi. Pronti a voi, azione simultanea, in guarda, pronti a voi. Pronti a voi, azione simultanea, in guarda, pronti a voi. Pronti a voi, azione simultanea, in guarda, pronti a voi. Pronti a voi, azione simultanea, in guarda, in guarda, pronti a voi. Alta, alta. Tocca. Iguali. Pronte, avanti. Alta, alta. Pronto, alta. Iguali. Pronte, avanti. Alta, alta. Viguali. Un'ottima dici. Quello è difficile. Una di un 18 del Cielo. Adesso il primo. Guardiamo. Guardiamo. Enrico. Guardiamo. Pronti il tavolo. Preparazione. Punto. Pronti il tavolo. Attacco o no, attacco bocca. Pronti a ovo. Attacco bocca. Guardia. Pronti a ovo. Attacco bocca. Guardia. Pronti a ovo. Attacco contro attacco. Attacco bocca. Pronti a ovo. Guardia. Pronti a ovo. Pronti a ovo. Pronti a ovo. Pronti a ovo. Attacco tocca. Guardia. Pronti a ovo. Attacco tocca. Guardia. Pronti a ovo. Preparazione. Attacco tocca. attacco a ovo. Attacco a ovo. Grazie. Guardia. Pronti a ovo. pronti salta pronti attacco parato guardia pronti preparazione attacco guardia pronti attacco guardia pronti attacco attacco pronti bravo 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 bravo